Ciao, sono Lorena Bianca di Hamburgo, San Michele. Siamo una ditta di importatori di vino in nord della Germania. Ho partecipato a questo speed dating e l'ho trovato molto interessante. Si concentra sulle cose veramente essenziali, informazioni importanti, ma non troppo lunghe. Dei vini bellissimi, produttori molto preparati. Tutta l'organazione è andata veramente perfetta. Sono molto contenta di aver partecipato.